Iniziamo il video Iniziamo il video Oddio Ah sto già registrando Spero mi si veda Accendiamo la luce Ci vediamo al video Allora questo qua ragazzi Sono qua per parlarvi di un contenuto Allora GTA V Online ragazzi È un gioco che conoscete tutti Allora adesso vi c'erano del video Perché porto Perché porto quel gioco Perché porto i vlog Perché porto quello Perché porto l'altro Perché porto quello Ok quindi iniziamo pure Prima soffiamo il naso I dizzi Amma mia ragazzi Va bene Prefetto Vi tagliarò tutto Allora andiamo avanti Prima di iniziare il video Eh invece sì Ho già iniziato No questa luce qua Allora Non sono capace quindi Ragazzi mi sa che non ce la faccio Non so se sono capace Oppure sì Non credo Madonna no Meglio di no No ragazzi Che pari lunghi Iscrivetevi Anzi Ragazzi nella prossima challenge Se anzi Se questo video raggiunge 50 like Vi giuro che Me li taglio tutti Io ve lo giuro Ve lo giuro Ragazzi È uscita una merda però Ve lo giuro che li taglio Tutti Se arriviamo Se arriviamo a 50 Like Ora vi lascio il video Veramente però Ciao ragazzi Ma vi è venuto questo Livissimo video Oggi siamo capace Perché porto G5 Allora 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 Perché porto G5 Ah Allora Prima di tutto Passano male Me lo avete fatto voi Ringrazio tutti Adesso andiamo a leggere Porca Ma che male ragazzi Non iniziamo Allora Prima ce la scrive No In video Non In video Comunque lo saluto Che me la scrive Allora Ok Facilissimo Perché porti G5 Allora G5 Io lo porto Perché Prima di tutto A me Piace G5 Ce l'ho da Tantissimo Poi a me piace Lo porto Perché ragazzi Secondo me Non è per le Perché a me piace Portare contenuti Ragazzi Molto Tipo gare G5 Ragazzi Sono bellissime A me mi piace Molto Ok Prossima domanda Allora L'altro Ce la chiede Un'altra Ce la chiede Allora Allora Ti piacciono Fare gare Malate Da curare Ti correcco Allora Sì Allora Porto per quello Perché a me Piaciono le gare Da curare Fai un video Dove ti cambi Cambi vestiti Saltiamo La raga Meglio Forse Comprare Vestiti Tu che me l'hai scritta Correggimi nei commenti Fai vedere I tuoi garage Va bene Sì sì infatti Perché Dovei farle anche vedere Ragazzi Grazie mille Tu E questa qua Mi avete fatto solo 4 domande Quindi è già tanto Per me Va bene Allora questa qua Era perché porto GTA 5 Quindi ragazzi Lasciate Aia che male Lasciate 7 like Se volete Un altro video Perché porti Rainbow Six Siege Lasciate 7 like Allora noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Ci siamo a 3 minuti e 50 Arriviamo a 4 dai Ok Questa è la prima Che va a 4 Tutti noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi